Se è stato possibile a Valencia che nel 2015 c'era un sacco di traffico, praticamente non c'era una zona pedonaria, la piazza e il municipio non esisteva, è possibile pure qui come si è dimostrato un po' in tutta Italia e poi tra l'altro la città funziona meglio, è più efficiente. Da maglia nera per traffico e cemento, Valencia è diventata in pochi anni Capitale Verde Europea 2024, titolo conteso proprio con Cagliari. Nella settimana della mobilità sostenibile, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha promosso in città un incontro internazionale. Vogliamo essere propositivi e quindi portare le belle esperienze che sono state realizzate e quindi fare in modo veramente che Cagliari possa davvero migliorare. La rivoluzione Valencia ruota intorno al modello controintuitivo, vale a dire riduzione di infrastrutture che incoraggiano l'uso delle auto per dar spazio alla mobilità condivisa, al trasporto pubblico integrato e agli spazi verdi. E' importantissimo togliere corsie delle auto e lavorare sulle alternative. Abbiamo avuto un aumento degli utenti delle piste ciclabili perché facemmo delle piste ciclabili protette, collegate, un 60% in più rispetto al 2015. Facemmo circa 75 km di nuove piste ciclabili. In pochi anni siamo diventati la capitale mediterranea della bicicletta, facemmo molti investimenti nei trasporti pubblici. E' vero che ci sono problemi, che le persone hanno le macchine, che vogliono parcheggiare, però molte persone sarebbero disposte ad abbandonare la macchina se hanno delle alternative di qualità.